Ben ritrovati dalla redazione di Forest Multimedia, in studio Cesare Martignone. In A12 tra Rosignano Barriera e l'allacciamento con la strada statale Aurelia, traffico congestionato per viabilità esterna che non riceve. In A1 coda di 5 km tra Firenze Scandici e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Bologna. Coda segnalata tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla variante di Valico in direzione Roma tra Badia e Aglio si registrano coda a tratti per traffico intenso. Tra Ronco e Bilaccio e Calenzano in direzione Roma si registrano coda a tratti per traffico congestionato. In FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna rallentamenti e coda con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Si ricorda che a Firenze per lavori di Publiacqua dal 9 agosto i viali di circomballazione tra la Fortezza da Basso e il viale Matteotti saranno interessati da provvedimenti alla circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!